Inizia a inacidirsi, domani dirà cose ancora peggiori, nonostante sia la befa... Esatto, domani è feste, è perché è sempre peggio, sempre meno stelle. No, no, che c'entra? Questa è una fase particolare per i casi. Salute, consigli che voi ci richiedete per posta e che vi dà il nostro amico Luciano Onder. Ben tornato, sono stato il primo incontro del 2011. E anche durante il periodo di vacanza e di festa, comunque, a Dottor Onder, sono arrivate sempre molte e-mail e molte domande. Benissimo. Tra l'altro si sono abbassate notevolmente le temperature e c'è chi proprio non è a letto con l'influenza. Ecco, ce l'ha lo stesso perché le spermute d'arancia o le vitamine C non servono assolutamente né per prevenire, né per dar raffreddore o addirittura... Bene, e invece molti sono convinti che sia una panacea. Allora, grazie Luciano, grazie mille. È un piacere che abbiamo ripreso questa cosa con suetudine che continueremo. Tanti auguri. Grazie a voi, auguri anche a voi. Grazie a Luciano. Allora, noi ci spostiamo perché adesso andiamo ad incontrare una ragazza, una ragazza molto...